Salve a tutti, io sono Emiliana Renella e mi occupo del settore socioculturale della banca popolare etica, il titolo del nostro intervento è l'interesse più alto che quello di tutti che è lo slogan della banca, cosa è banca etica? Banca etica è una banca quindi fa attività intermediaria tra accogliendo il risparmio e prestandolo, però è anche un punto di incontro tra i risparmiatori che condividono l'esigenza di una gestione responsabile del denaro e le iniziative socio-economiche, banca etica inoltre svolge anche una funzione educativa nei confronti sia del risparmiatore che del beneficiario del credito, cercando di responsabilizzare entrambi, l'uno sull'utilizzo del denaro e l'altro sulla capacità imprenditoriale, chi sono i soci fondatori della banca, i soci fondatori della banca sono stati migliaia di persone fisiche ma anche organizzazioni della società civile, ACLI, ARC, ONG, la banca etica è una storia che viene dagli anni 80, nel 94 nasce l'associazione verso la banca etica, nel 95 è la cooperativa per la raccolta del capitale sociale e nel 99 si apre il primo sportello a Padova, è una banca che si caratterizza perché è basata su alcuni principi, la trasparenza, la partecipazione, l'efficienza e l'usabilità, il diritto di accesso a credito e l'attenzione alle conseguenze economiche delle azioni economiche. Quali sono gli strumenti di garanzia affinché i valori si concretizzano nella prassi? Gli strumenti di cui ci siamo dotati sono un comitato etico, un codice etico e soprattutto una valutazione socioambientale dei finanziamenti che rappresenta una peculiarità della banca che è una doppia valutazione che la banca fa nel momento in cui eroga il finanziamento, oltre ad un'istruttoria socio-economica fa anche una valutazione ambientale e sociale del progetto. Altra peculiarità è la dimensione culturale perché tutta l'attività bancaria viene riformulata sulla base di un processo associativo, per cui è la prima banca che coniuga una partecipazione associativa con una partecipazione di tipo societaria. I soci della banca sono circa 35.000 sull'intero territorio. Uno dei ruoli dei soci è il valutatore sociale, quello di cui si parlava, ed è colui che volontariamente effettua la valutazione sociale viene formato dalla banca, iscritto in uno specifico albo. Infine le aree territoriali in cui in seguito al processo di decentramento la banca è divisa, sono le quattro aree dove si sviluppano le attività della banca e le attività dei soci. In ognuna di queste aree vi è presente un forum che coniuga le diverse anime della banca, dalla parte politica, la parte associativa, la parte operativa e la banca socioculturale. La banca etica ha una sede centrale a Padova, 13 filiali, la quartodicesima in apertura ad Ancona e 24 banchieri ambulanti. Cos'è il nostro banchiere ambulante? Il banchiere ambulante è un promotore finanziario che coniuga l'attività bancaria, quindi raccolta di risparmio con gli impieghi, ad una sinergia con il territorio e con i soci, non lavora a provvigione perché è un operatore del territorio e quindi non ha un interesse di tipo economico nella sua attività. Quindi banca etica possiamo definirlo come una banca di riferimento per le persone e le organizzazioni che vogliono praticare delle scelte di tipo responsabili. Come lo si fa? Il risparmiatore in banca etica ha la possibilità di indicare il settore verso cui orientare il proprio risparmio, ha la possibilità nel sito della banca di conoscere i progetti che si vanno a finanziare e i progetti che finanziamo sono soprattutto progetti che vengono portati avanti da cooperative, associazioni, enti, circoli, quindi dalla società civile. I settori di finanziamento in cui orientare risparmio sono cooperazione sociale, ambiente, cooperazione internazionale, cultura e società civile. Dal 2003 particolare attenzione viene data all'ambiente e quindi anche particolari aziende nel settore dell'ambiente vengono finanziate. Banca etica è un sistema, in Italia c'è una società di gestione del risparmio, una fondazione culturale per l'attività culturale, in Europa è un insieme di una serie di organizzazioni della finanza etica. Concludo con l'interesse più alto che quello di tutto, quello slogan, ossia non l'interesse del singolo ma l'interesse della comunità. Grazie. Grazie.